E' iniziata, sabato scorso, con la presentazione dei due candidati, la fase provinciale del congresso del PD. Velato, ma nemmeno tanto, scambio di critiche tra le parti per la mancata candidatura comune, con i nomi di Mario Antinori e Teresa Lambertucci trovati, si dice, all'ultimo momento. Mario Antinori rifiuta l'associazione di una corrente e bacchetta i soliti noti e, accompagnato alla presentazione da Roberto Paoloni, Cristiano Saletti e l'onorevole Irene Manzi, ha fondato il suo programma sul nome Rigenerazione PD. In questi anni il PD della provincia di Macerata è stato assente, è stato lontano dai luoghi della crisi, significa che non è stato dentro i problemi della gente. Noi dobbiamo ricostruire questo partito, rigenerarlo a partire da una nuova classe dirigente e a partire da un modello organizzativo che funzioni, che guardi i problemi e che metta i cittadini e gli iscritti al centro dell'azione politica del Partito Democratico. Il mio impegno sarà un impegno a 360 gradi, prima di tutto, per rifondare il Partito Democratico. Rigenerarlo significa ricostruirlo, significa guardare alle amministrative con attenzione, andare nei singoli comuni, verificare quali sono i problemi, fare da tramite tra gli iscritti e le amministrazioni, riuscire appunto per i problemi di questa provincia a trovare delle soluzioni condivise che portino a uno sviluppo maggiore della provincia e che la portino ad uscire dalla crisi, cioè fare quello che dovrebbe fare il più grande partito della sinistra italiana e il più grande partito della sinistra in provincia di Macerata. Chiara invece l'appartenenza di Teresa Lambertucci alla corrente renziana, con l'appoggio dei DEM. Accanto a lei tra gli altri Sciapichetti, Biagiola, Comi e l'onorevole Morgoni, con lo slogan Macerata Cambiaverso. Chiaramente si ispira allo slogan della campagna elettorale, della campagna per le primarie dell'8 dicembre di Matteo Renzi, che è l'Italia Cambiaverso, però al di là dell'ispirazione sicuramente c'è un messaggio dentro, che è quello proprio di una necessità di attuare un cambiamento, che è un cambiamento nelle modalità, nel liturgia, nei modi di discussione, nelle strutture del partito e soprattutto nell'attenzione ai cittadini e ai bisogni gli stessi. L'impegno è un impegno intanto di lavoro e di fatica, di dedizione alla costruzione di un partito che sia più forte, più radicato e più vicino ai cittadini. Il nuovo elettorato, l'elettorato presente, l'elettorato che ci ha abbandonato, l'elettorato che si è allontanato, i delusi dal partito democratico o altri delusi da altre forze che possono comunque avvicinarsi al partito democratico e portare le proprie sensibilità e le proprie stanze. Ora la palla passa ai delegati 106, espressi dai circa 40 circoli del territorio, che entro il 6 novembre sceglieranno il nuovo segretario.